Scusate, stiamo ancora capendo cosa dobbiamo fare e come dobbiamo fare, però siamo tutto a posto, tutto controllo a questa è la nostra normalità, va bene, questa è così. Comunque abbiamo raccontato montagne, 600 km di fronte ad un'altra guerra mondiale, oggi facciamo l'altro salto, passiamo a un'altra guerra, la sequenza della guerra mondiale. Un momento storico dell'Italia, la politica dell'ora, di conquiste e di espansione ha portato la nostra nazione a sacrificare altre persone, altre gente. Abbiamo messo a piedi in altre nazioni e abbiamo sbagliato tutti, ma sicuramente non è proprio la nostra, perché la nostra indole non è quella di combattere, ma sicuramente è quella di cercare di aiutare il prossimo, e questo è quello che gli alpini fanno ancora sulle esperienze di quello che è successo. Ricordiamo la prima campagna, la prima campagna di Grecia Albania, adesso siamo sul cuore con una montagna quasi storia, dove gli alpini si sono rifugiati nel periodo di resistere a un greco di greci che hanno cercato di respingere indietro a un torosto che è stato completamente sbagliato. Una montagna a spoglia senza riparo, dove i ragazzi sono lì che cercano di resistere e di vivere, e questo è l'importante, si cerca di salvare la vita, si cerca di portare la famiglia, si cerca di pregare, ci si affida a qualsiasi cosa con la speranza, con la corrotola, ti passi vicino, ma non ti colpissi. Grazie. 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 Grazie.